segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te al momento è una è una grande bufala diciamo voglio dire quello che è stato inserito in questo decreto è una promessa che non può essere mantenuta o comunque è un'illusione che viene somministrata ai cittadini e agli elettori cioè l'idea che tutti questi che arrivano senza permesso finiranno dentro strutture nelle quali saranno trattati come carcerati o come internati o in qualche in qualche modo è impossibile realizzare questo è la solita politica dell'annuncio per calmare i propri elettori rispetto a promesse che non si possono mantenere non verranno costruiti nelle dimensioni tali da ridurre la presenza degli immigrati nelle nostre città supposto che venissero costruite queste strutture chi vi accede deve essere stato oggetto di un provvedimento di tipo giudiziario amministrativo quindi non è che si rastrellano le persone le si mettono lì dentro e sarebbe terribilmente incostituzionale finiremmo come come ludibrio delle genti se se fossero una cosa di questo tipo quindi siamo di nuovo a un governo che incapace di affrontare i problemi che in campagna elettorale in una lunghissima campagna elettorale aveva detto che avrebbe risolto perché questo è il problema non è che i governi precedenti li abbiano risolti effettivamente non li hanno risolti nemmeno loro il che vuol dire che sono problemi giganteschi ma questa queste forze politiche in particolare fratelli d'italia e la lega avevano promesso che se avessero ottenuto il consenso popolare li avrebbero risolti e invece sono in in estrema difficoltà io credo che il problema della meloni e di questo governo stia nel nelle sue radici nella sua struttura i fratelli d'italia ha una classe dirigente di pessimo livello addirittura i ministri che è infilato nel governo sono di basso livello ma per una ragione semplice storica vengono da una forza politica che ha abitato a lungo una nicchia infetta diciamo così una una nicchia malfamata che era il il neofascismo da cui da cui originano e i i militanti avevano le stigmate di quella di quella vicenda però professore lei mi chiamava che sembra un linguaggio veramente eccessivo in posizione ostinata e contraria con però professore lei la chiama lei può usare il linguaggio che ritiene lei la chiama nicchia infetta e malfamata in realtà la storia diciamo di quel partito dalle sue origini è la storia di un partito che sta che si presenta regolarmente alle elezioni votato no ma lo sto poi l'opinione il parere di ma ci mancherebbe altro il parere di revelli però è la storia di un partito che nel corso degli anni è stata ed è anche non è che governano da oggi perché nei vent'anni del del di berlusconi pezzi di quella classe dirigente quindi sono inseriti movimento sociale italiano è un movimento ormai inserito nell'arco costituzionale non ha bisogno di un avvocato difensore no no dico io dico io però insomma mi sembra che solo per dire classe dirigente infetta mi sembrava come dire un'espressione ho detto classe dirigente infetta ho detto classe dirigente di pessimo livello che ha abitato una nicchia malfamata che per molti versi ecco quindi ma il problema di alcuni però scusate siete tutti per la massima libertà di parola abbiamo letto il libro del generale vannacci che dice che il professor rivelli non può fare una scorsa evidentemente penso che si possa dire la parola infettata da questioni anche di neofascismo che adesso con le quali spesso in questi in queste settimane giorgia meloni ha dovuto fare i conti cioè se pensiamo a quello che è successo alla regione lazio caso di angeli ma questo uno pertanto per citare il più famoso ma ce ne sono quindi e questo quello che sta dicendo professore a parte che ogni opinione lecita e per carità volevo ricordarlo all'amica laura però insomma soprattutto sta dicendo una cosa che cronaca non è una perché non mi pare che sia augurabile non se augura neanche meloni di essere sistematicamente chiamata a rispondere di alcuni intemperanze neofasciste dei suoi ex o compagni molto molto fatti appunto sto dicendo questo sto dicendo che non fa piacere a lei pensa professore rivelli si fa piacere ma allora perché dire sempre classe dirigente perché la verità che c'è una vero guarda non è l'ha detto questo ma impreparata impreparata allora sì un conto è dire impreparata un conto è dire perché è impreparata perché ha delle eminescenze neofasciste piuttosto che è un buon modello è un buon modello di ministro in italia forse no magari dovrà studiare un po meglio poi il presidente del senato con le cose che dice un buon modello di cittadino democratico fedele alla nostra storia repubblicana no abbiate pazienza c'è un problema non di preparazione ma di linguaggio diciamo di di esposizione corretta del pensiero che talvolta appunto questo è il gong della regia quando monti quando monti nostro regista zambò inquadriamo loro reputano che è finito il tempo il complotto il complotto del gong abbiamo una breve pausa pubblicitaria